Il segretario della CGL Maurizio Landini annuncia che il sindacato ha deciso di presentare ricorso contro la precetazione dello sciopero generale di venerdì 17 e lo stesso farà la UIL. Ieri ministro dei trasporti Salvini è infatti limitato a quattro ore l'agitazione prevista per tutta la giornata e sono subito scoppiate le polemiche. Quella di domani sarà la prima tappa della mobilitazione proclamata da CGL UIL, cinque giornate con sciopere e manifestazioni in 58 piazze con oltre 100 presidi su base territoriale regionale che poi coinvolgeranno le regioni del nord il 24 novembre e quelle del sud il primo dicembre.